Cambio al vertice della direzione generale dell'azienda USL di Ravenna. Tiziano Caradori, dal 2004 alla sede di Largo Chart, è stato richiamato in regione con l'incarico di direttore generale Sanità e Politiche Sociali dell'Emilia Romagna. Il suo posto sarà ricoperto da Andrea Desdorides, già direttore generale di aziende ospedalieri in Toscana e Basilicata, che si insedierà a Ravenna tra qualche settimana. L'esperienza professionale, come ho già avuto modo di dire, è stata la più bella, con le sue difficoltà, le sue complessità, però anche con considerevoli motivi di soddisfazione nelle relazioni, con i colleghi e anche nell'apprezzamento, che anche nei momenti più critici, come ce ne sono spesso nel nostro mestiere, ho sentito da parte degli organi di stampa, da parte degli organi istituzionali, le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Anche in momenti che per un pubblico amministratore non sono felici, come le questioni che mi hanno interessato e mi hanno portato all'attenzione della magistratura, questo comportamento di non uso strumentale è stato particolarmente significativo per me, non è una cosa, normalmente quando accadono fatti come quelli vengono presi a pretesto per altre finalità, invece questo in questa realtà non è assolutamente avvenuto da parte di tutti e questo io indirettamente lo leggo come una considerazione del modo, del lavoro che noi abbiamo fatto. Dal punto di vista tecnico, se guardo i risultati, i risultati sono positivi, si può sempre fare meglio e rimangono una serie di lacune e sono sostanzialmente delle lacune che fanno riferimento al modo in cui noi ci rapportiamo alla gente, le persone come le prendiamo in carico, la personalizzazione, l'umanizzazione, l'ascolto delle persone e questo forse per un direttore generale è un lavoro un pochino più difficile e lungo rispetto a quello di risanare i bilanci che tutto sommato è la parte tra virgolette più semplice di questo mestiere. Quindi c'è ancora del lavoro da fare però per esempio l'aiuto che mi è stato dato dagli organi di stampa quando giustamente stigmatizzavano le cose che non funzionavano oppure dalle associazioni dei familiari che in alcuni casi vorrei ricordare la salute mentale ci hanno consentito di stravolgere interamente un servizio sperando che sia più adeguato alle legittime aspettative dei destinatari. Quindi diciamo che per tutte queste ragioni è stato sicuramente io adesso non è che abbia una carriera infinita, ho la barba bianca però, in questi 25 anni di lavoro è stata sicuramente l'esperienza più arricchente da tutti i punti di vista. Grazie.